Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, come vedete sono nuovamente in compagnia della mia fidanzata Elisa Martinotti. Sotto tortura, evviva! Ovviamente questo sotto tortura serve proprio a presentare la puntata di oggi, nel senso nuovo video dedicato alla rubrica Le donne e il calcio. Visto il successo della prima puntata, chiamiamola così, insomma il primo video, abbiamo detto vediamo di rifarlo, però stavolta ci siamo preparati perché in effetti non pensavo che avrei avuto a che fare con una ragazza così preparata, allora ho detto qui bisogna preparare la cosa in una maniera diversa, quindi vi spiego subito cosa facciamo. Io sottoporrò la qui presente Elisa Martinotti a 5 domande che ho opportunamente preparato, ovviamente non voglio essere troppo cattivo, quindi sono 5 domande abbastanza semplici, però teoricamente per una ragazza che non segue il pallone potrebbero essere comunque complicate. Per facilitargli il compito, è scelta multipla! Esatto, si dice il compito di italiano storia, non lo so, insomma quelli che facevamo alle superiori. Cosa molto importante riguardo a queste tre risposte, una è quella giusta, una potrebbe essere giusta perché non segue il pallone ci può stare di confondersi e l'altra è completamente sbagliata, quindi diciamo che il compito può essere un po' facilitato. Bando alle ciance, partiamo, forza e coraggio, tu sei pronta? Sì. Ok, andiamo, non mi sembra molto convinta. Allora, prima domanda, cosa vuol dire generalmente quando l'arbitro fischia due volte? Risposta A, fischia un fuorigioco, risposta B, fischia la fine del primo tempo, risposta C, è passata una bella donna. Allora, fine del primo tempo. Esatto, bravissima, una risposta ok, bravissima. Passiamo alla seconda. Nel gergo calcistico cosa si intende col termine chiama? Allora, risposta A, l'arbitro fa l'appello dei giocatori prima della partita. Risposta B, l'arbitro chiama un giocatore nel corso della partita per dirgli qualcosa. Risposta C, l'arbitro si fa prestare un cellulare per chiamare e comunicare con il guardaline. Questa zonca. Qual è la risposta esatta? Un appello. Esatto, non so che l'ho fatto troppo semplice, volevo complicare la vita ma non so che... Allora, vediamo, forse questa potrebbe metterti in difficoltà. Quante squadre partecipano al campionato di Serie A? Attenzione, 40, 20 o 16? Allora, vediamo, insomma, sicuramente... Lo rifetti un po' la domanda. Allora, quante... La sapevo che questa l'avrebbe messa in difficoltà. Quante squadre partecipano al campionato di Serie A? 40, 20 o 16? Una la puoi escludere, diciamo, perché è molto estremizzata. Diciamo che è fra le... 20? Bravissima! Incredibile! Scazzata clamorosamente! Scazzata! Però è azzeccato! Presse un trepero! Ok, benissimo! Beh, domande del cazzo, proprio! Andiamo avanti! Quarta domanda! Mi sta stracciando! Arrivati allo scoccare del 45esimo minuto della prima o della seconda frazione, il quarto uomo generalmente può sollevare una lavagnetta luminosa in cui viene indicato un numero. Che cosa indico a quel numero? Questa è facile, secondo me. Allora, indica i minuti di recupero della partita, indica il numero dei cambi fatti dalle due squadre durante il corso della partita, indica il numero di volte che è stato mandato a quel paese l'abitolo dei giocatori intercupo. Vabbè, insomma, mi sono scervellato. Allora, ma chi è il quarto uomo? Allora, questa poteva essere la domanda, ecco, vedi, non c'è... È un guardalinea! Allora, il quarto uomo è uno, diciamo, degli arbitri, cioè che fa parte della squadra arbitraria. Lo specifico è quello che sta a metà campo, gestisce fondamentalmente i due allenatori, soprattutto in modo tale che non superiurano la tecnica, insomma, per controllare queste cose, però ha anche il compito generalmente di tirare su questa lavagnetta e indicare questo numero, che significa qualcosa. Il numero dei cambi? Sbagliato! Sbagliato! Oh, bien! Eh, l'abbiamo messa in castagna! No! Indica i minuti di recupero della partita. Sapevo! Eh, lo sapevo io, l'ultima. Lo sapevo. Eh, strano, pensavo che fosse più semplice. Eh, lo sa, mi è confuso. Eh, ti ho confuso. Vedi, sono stato bravo, questo caso, sono stato bravo. Beh, bene. Andiamo all'ultima, perché te la puoi giocare bene, dai. Nel gergo calcistico, il sottolineo calcistico, cioè sul campo di calcio, ok, perché potrebbe essere, e avere qualche altro significato, Chi è, generalmente, il bomber? Allora, è il giocatore della squadra che in discoteca rimorchia le ragazze più belle? È il giocatore che tira delle bombe da fuori aria per segnare? O è il giocatore della squadra che segna tanti gol? Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Bomber. Non mi senti l'occhio. È difficile. Vabbè, prima lo escludiamo. Ok, anche se, diciamo, tra parentesi, che il bomber, generalmente, può essere catalogato come un bomber. La seconda qual è? La seconda è il giocatore che tira delle bombe da fuori aria per segnare. Stessante. E mentre la terza è il giocatore che segna tanti gol. Io direi la tre. Esatto, è proprio lui, è il capo cannoniere. E' il giocatore che non è il bomber perché mi sono collegato esattamente alla prima risposta, perché generalmente il bomber è così. Tra amici può essere quello che effettivamente, no, va in discoteca, insomma, è cucca. Io non sono mai stato un bomber. Anche, anche, sì. Anche il giacchetto. In realtà, dicevo, non sono mai stato un bomber. Né nel campo di calcio, perché non ero un golador, e neanche in discoteca. Allora, ok. Direi che ci siamo. Abbiamo completato, quindi, score complessivo 4 su 5. Direi che è un ottimo risultato, assolutamente, per la nostra Elisa. che supera... Cosa ho vinto? Non lo so. In breve, eventualmente, mettetelo in palio voi. Ragazzi, allora, come l'altra volta, quindi, vogliamo un bel voto, da 1 a 10, come sempre, per giudicare la performance della più presente Elisa. Quindi, mi raccomando, insomma, siate... No, buoni, non siate buoni. La prossima volta ti interrogo io, allora. Ok, ci sto. Mi sembra giusto, insomma... Non sul calcio. Ah, ecco. Allora, qui sarà veramente dura, difficile. Ok, mi preparerò, anche se non so l'argomento... Sarà un argomento a sorpresa, immagino, insomma. Ok, perfetto, benissimo. Allora, figura di merda in arrivo. Allora, ragazzi, quindi, voto per Elisa. Prima di salutarvi, volevo ricordarvi che nell'info di iscrizione lascerò il link del canale YouTube, perché anche lei è un canale YouTube, per chi lo sapesse, il canale si chiama... Dictin3. E di cosa parla? Di fitness. E cosa fai in questi video? Allenamenti. Yeah, fitness, sempre sport, ragazzi. Noi siamo sportivi all'elesima potenza. Quindi, ragazzi, mi raccomando, mettete un bel pollice in su al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, al mio e anche al Civo, eventualmente, se forse siete interessati a un po' di fitness, a un po' di moto, che fa molto bene. Condividete il video, più non posso. Insomma, ragazzi, ci vediamo al prossimo intervento. Un saluto da Andrea Meleu e... Ciao! Elisa! Ciao! 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 Grazie a tutti.